La conferenza mondiale sul clima di Dubai va verso il fallimento. Il segretario generale dell'ONU ha detto chiaramente che marciamo verso la catastrofe, siamo a pochi minuti dalla mezzanotte. Quindi il rischio è l'estinzione della specie umana, ma soprattutto è un'estinzione, mentre siamo consapevoli dei rischi e anche delle possibili soluzioni. Eppure la conferenza di Dubai si sofferma su frasi, quasi su eufemismi, su dettagli, per cercare di non uscire dai combustibili fossili. C'è un dibattito su dobbiamo andare verso il phase out, che significa uscire dai combustibili fossili, o il phase down, ridurre pian piano, come se fossimo in una condizione normale. Il segretario dell'ONU dice che stiamo andando con il piede sull'acceleratore verso il baratro. E invece le risposte sono chiacchiere, parole, promesse. L'unica cosa positiva è stato l'accordo sul fondo a sostegno dei paesi danneggiati dal cambiamento climatico, ma è poca cosa se sosteniamo i danni e non cerchiamo di prevenire la catastrofe. Quindi ogni iniziativa va spesa e la devono spendere fino all'ultimo minuto per chiudere definitivamente con la stagione dei fossili. Ed è inutile inventarsi la cattura del carbonio se non si dice che cosa significa. Di che parliamo? Parliamo delle proposte che fanno i paesi che hanno petrolio e gas, che vogliono tentare di catturare la CO2 con alcuni strumenti che però ancora non sono su larga scala. Quindi oggi la soluzione sono le rinnovabili, la soluzione è l'efficienza energetica, c'è la tecnologia, ci sono le capacità, ma ci sono le lobby che possiedono i giacimenti di petrolio e gas e le miniere di carbone che ovviamente fanno di tutto per bloccare la soluzione. E la soluzione è una rapida fuoriuscita, una transizione ecologica e digitale vera e dare un futuro soprattutto alle nuove generazioni che giustamente protestano. Ma dovremmo protestare tutti perché di fronte al segretario dell'ONU che parla di catastrofe climatica andare sugli arzigogoli delle parole è immorale e indecente.